Glorie al Signore, Dio vi benedica, cari! Vogliamo fare ancora un breve approfondimento biblico riguardo alla verità che ci insegna la Bibbia che dopo la morte ci sono due luoghi dove gli esseri umani andranno. Dopo la morte esistono due luoghi dove le anime o gli spiriti andranno. Quando l'uomo muore, muore fisicamente, cioè il corpo muore, ma l'anima, lo spirito dell'uomo continuano a esistere, al contrario di quanto affermano alcune dottrine false esistenti oggi nel mondo, per esempio la torre di guardia, la dottrina dei testimoni di Geova, negano l'esistenza della vita dopo la morte. Secondo i loro insegnamenti fasulli dicono che la vita o l'esistenza cessa quando l'uomo muore fisicamente, cioè che dopo la morte non c'è niente e questa è una grande eresia antibibblica. Oppure come il Vaticano insegna l'esistenza di un luogo intermediario che loro chiamano purgatorio, sono tutte dottrine, teorie e insegnamenti falsi che vanno contro le sacre scritture. Perciò in questa riflessione, in questo breve messaggio voglio ancora chiarire questo, approfondire che secondo la Bibbia ci sono due luoghi dove gli esseri umani dove le anime andranno dopo la morte. Quando un uomo muore o va in cielo o va all'inferno. Ci sono due luoghi dove gli esseri umani, dove ognuno di noi, dove ogni creatura, ogni essere vivente, ogni persona andrà dopo la morte. Chi ha creduto in Cristo e ha seguito la via del Signore, la via stretta, andrà nel regno dei cieli. Ma chi non ha creduto in Cristo, ha disprezzato la parola, è stato ribelle, disubbidiente e ha preferito il peccato, invece della volontà di Dio, quella persona andrà all'inferno e poi dopo il giudizio finale saranno gettati nello stagno di fuoco, che è la morte seconda. Perciò la Bibbia è chiara riguarda questo. Non esiste un purgatorio, le anime o l'essere umano non cessa di esistere nel momento della morte, come dicono le false dottrine, che dopo la morte non c'è niente, ma si va in uno stato di incoscienza o di non esistenza, dicono le dottrine false. Ma la Bibbia invece ci insegna che dopo la morte l'uomo continua a esistere in uno stato spirituale, cioè nello spirito, nell'anima, l'uomo continua a esistere e l'uomo che muore, ripeto, o va con il Signore nel paradiso, oppure l'uomo che muore nel peccato va all'inferno, in un luogo di tenebre, di tormento, di sofferenza, dove il fuoco non si spegne, dove il verme non muore, cioè c'è un continuo soffrire, c'è un'angoscia continua, è un luogo terribile e la Bibbia ci parla chiaramente dell'esistenza di quel luogo, come la Bibbia ci parla chiaramente dell'esistenza del paradiso, un luogo di riposo, di pace, dove noi vedremo il Signore, dove noi staremo nella presenza del Signore. Voglio leggere un brano che racconta la storia del ricco e Lazzaro, Gesù ha parlato di questa storia, una storia reale, noi crediamo come cristiani evangelici che è una storia reale, non è una parabola, ma Gesù ha parlato di questo uomo ricco e di un mendicante chiamato Lazzaro, perciò Gesù ha parlato di due persone che esistettero e Gesù diede il nome di uno dei due, Lazzaro, perciò è una storia, un fatto realmente accaduto, vogliamo leggerlo brevemente, Luca capitolo 16 dal verso 19 alla gloria di Dio. Dice così la parola del Signore, or vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e bisso e ogni giorno se la godeva splendidamente, cioè questo uomo ricco viveva nel lusso, viveva nei piaceri e non credeva in Dio, non considerava l'esistenza di Dio, ma lui amava le cose materiali, viveva nel lusso e in un certo modo lui disprezzava la fede, la conoscenza di Dio e dice al verso 20 che vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Questo mendicante stava lì possiamo dire alla porta del palazzo di quell'uomo ricco, di quell'uomo ricco, di quell'uomo che viveva nel lusso, nei piaceri, ma non credeva in Dio. Questo la Bibbia ci fa capire. Invece quel mendicante, quel povero possiamo dire, che stava lì fuori dal palazzo dell'uomo ricco e aspettava di ricevere qualcosa da mangiare, quell'uomo credeva nel Signore. La Bibbia ce lo fa capire, perché ora vedremo. Al verso 22 dice che avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Vedete il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, che rappresentava il paradiso, un luogo di riposo, un luogo di pace. Il mendicante morì e fu portato dagli angeli in paradiso. Com'è che fu portato? Fu portato in spirito, non col corpo, ma fu portato in spirito, cioè l'anima del povero, del mendicante che credeva in Dio. Per questo che gli angeli lo presero, lo portarono spiritualmente in quel luogo, portarono la sua anima, lo presero spiritualmente. dopo che lui morì, l'anima, lo spirito di Lazzaro uscirono dal corpo e gli angeli arrivarono e lo portarono in quel luogo di pace, nel seno di Abramo, cioè un luogo dove i credenti venivano accolti, i fedeli, coloro che confidavano nel Signore, venivano accolti in quel luogo di riposo. E quel luogo esisteva prima della venuta di Cristo. Chi moriva nella fede, chi moriva nella grazia di Dio, chi moriva essendo fedele a Dio, veniva portato in quel luogo dagli angeli, nel seno di Abramo. E qui parliamo prima della venuta di Cristo, perché ora dopo la morte di Cristo, dopo l'opera di Cristo al Calvario e dopo la sua risurrezione, adesso i credenti che muoiono vanno direttamente nel paradiso, ma prima non potevano entrare nel paradiso celeste, perché il sangue di Cristo non era ancora stato versato per la remissione, per la completa purificazione dei peccati. Allora chi moriva prima della croce di Cristo, prima della venuta di Cristo, non poteva ancora entrare in cielo, in paradiso, perché il sangue del figlio di Dio non era ancora stato sparso, cioè l'opera della redenzione non era stata ancora compiuta. Allora chi moriva nell'antico patto, prima della venuta del Signore, Gesù Cristo, andava nel seno di Abramo, un luogo di riposo, di salvezza, di pace, ma che non era in cielo. Perciò quando questo mendicante Lazzaro morì fu portato nel seno di Abramo, che era un luogo che si trovava nello Sheol, lo Sheol che era nelle profondità della terra, il soggiorno dei morti, lo Sheol era diviso in due luoghi, c'era il seno di Abramo che era, possiamo dire, il posto dove andavano i credenti fedeli, che erano stati salvati ma che ancora non potevano entrare in cielo, perché il sangue di Cristo non era stato versato, l'opera della redenzione non era ancora stata compiuta al Calvario, ma loro comunque erano salvati per la fede in Dio, per la fede nel Messia che doveva venire. Allora loro erano, possiamo dire, in un luogo di attesa, però era un luogo benedetto, erano salvati, erano nel riposo, per questo che veniva chiamato seno di Abramo e gli angeli portavano queste persone in quel luogo dopo la morte, queste anime venivano portate lì. Però lì nello Sheol c'era anche un altro posto, possiamo dire lo Sheol era diviso in due, c'era il seno di Abramo, da una parte un luogo di salvezza, di riposo, di pace, alleluia, ma c'era anche l'altro lato dello Sheol che era un luogo di tormento, un luogo di condanna, un luogo di perdizione, di tenebre, di sofferenza, dove andavano le anime dei ribelli. Perciò qui vediamo che quando Lazzaro morì fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, invece il ricco fu sepolto e dice che al verso 23 ed essendo nei tormenti, cioè il ricco morì fu sepolto, cioè non fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, ma dice la Bibbia che fu semplicemente sepolto, fu un altro tipo di morte, vedete? E quando il ricco morì, dopo essere morto, lui si ritrovò nei tormenti ed essendo nei tormenti, nell'Hades, così veniva chiamato, possiamo dire, quel lato dello Sheol, possiamo definirla quella sezione dello Sheol dove andavano i ribelli, un luogo di tormento. Questo la Bibbia ce lo fa chiaramente capire e qui stiamo parlando prima della venuta del Messia, prima della croce, dell'opera della redenzione di Cristo Gesù. Allora il ricco dopo essere morto si ritrovò nell'Hades, dice qui Luca 16, 23, ed essendo nei tormenti, nell'Hades, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Vedete che l'esistenza del ricco continuò al di là della morte, lui morì e si ritrovò nell'Hades nei tormenti e alzò gli occhi, cioè la sua esistenza non cessò, ma la sua esistenza continuò dopo la morte, ma in un luogo di tormento. E quell'uomo vide da lontano, nell'altro lato, possiamo dire, dello Sheol vide il povero con Abramo che riposava in un luogo sereno, in un luogo tranquillo. E dice che il ricco ritrovandosi nel tormento dell'Hades, in una fiamma, dirà più avanti, dice al verso 24 che il ricco gridando disse padre Abramo abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua perché soffro terribilmente in questa fiamma. Vedete dopo la morte il ricco si ritrovò nell'Hades, nell'angoscia, nella sofferenza, nei tormenti, in una fiamma e gridava. E lui iniziò a gridare per chiamare l'attenzione di Abramo che era nell'altro luogo, nel luogo del riposo. E dice qui che questo ricco, cioè che si ritrovò spiritualmente con la sua anima nel tormento, cioè la sua esistenza continuava non finì dopo la morte. Perciò dopo la morte per il ricco ci fu il tormento nell'Hades, nel fuoco e lui gridava, cioè lui sentiva quel dolore, quel fuoco, perciò l'esistenza non cessò. Ecco perché sto affermando biblicamente che dopo la morte ci sono due luoghi destinati agli uomini, il paradiso o l'inferno. E adesso chi muore nel Signore, ora che l'opera della croce è stata già compiuta, Cristo ha già versato il suo sangue. La piena redenzione è già stata, gloria a Dio, compiuta da Cristo alla croce. Adesso, in questo nuovo patto, quando un credente muore, quando un uomo fedele a Dio muore, va direttamente nel paradiso, nel paradiso celeste. Perciò ci sono due luoghi dove andranno gli uomini dopo la morte. Chi avrà creduto nel Signore andrà nel paradiso celeste, chi non ha creduto andrà nello Sheol, nell'inferno, nel luogo di tormento, in attesa del giudizio finale, dove poi le anime dei ribelli, che non si sono convertiti, all'Evangelo di Cristo, saranno gettate dopo il giudizio finale del gran trono bianco, di cui ci parla la Bibbia in Apocalisse, quelle anime saranno gettate, i colpevoli, i peccatori, i ribelli, saranno gettati nello stagno di fuoco, che è la morte seconda. E quello sarà lo stato eterno della perdizione, dove soffriranno, dice la Bibbia, nei tormenti giorno e notte, nel fuoco. Questo lo dice la Bibbia. Perciò ci sono due luoghi dove gli uomini andranno dopo la morte. Vedete quando il ricco morì, e quel ricco era un uomo superbo, un uomo orgoglioso, un uomo ribelle, lui morì lontano da Dio, morì nell'incredulità, nel peccato, e lui dopo che fu sepolto si ritrovò nel tormento, in mezzo a una fiamma di fuoco, nell'Hades. Invece quando morì il povero, il mendicante, Lazzaro, che al di là delle sue sofferenze terrene, lui credeva in Dio, quando lui morì, fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Cioè fu portato dagli angeli in spirito. lo spirito di Lazzaro, l'anima di Lazzaro, fu portato dagli angeli, fu accompagnato dagli angeli, il corpo rimase lì, il corpo morto fisicamente rimase lì, ma lui fu portato nello spirito, nell'anima, fu portato in quel luogo di pace e di serenità. Perciò ci sono due luoghi dove gli esseri umani andranno dopo la morte, o il paradiso o l'inferno. E chi muore nel Signore trova un grande guadagno. Ecco perché Paolo diceva, per me il vivere è Cristo e il morire guadagno, perché chi ha la fede in Cristo, chi cammina nella via del Signore, chi veramente vive in contatto col Signore, quando muore, va in un luogo meraviglioso. Noi andremo in un luogo meraviglioso, nel paradiso di Dio, nel paradiso celeste. E chi muore in Cristo viene portato dagli angeli nel regno dei cieli. Chi muore nel Signore, chi muore nella fede, chi muore nella grazia, muore nella salvezza. Cioè il corpo muore, ma noi siamo portati dagli angeli nel paradiso di Dio. Ma chi non crede nel Signore, chi rifiuta la salvezza, chi rifiuta la grazia, va in un luogo terribile di tormento, di condanna, dove il fuoco non si spegne mai. Cari che mi ascoltate, questa è la verità biblica. Ci sono due luoghi dove gli esseri umani andranno dopo la morte, o il cielo o l'inferno. Perciò che ognuno di noi abbia la fede nel Signore Gesù Cristo e perseveri nella via del Signore, vivendo in contatto con Lui, con il Signore, con lo Spirito Santo. Perché solo così noi potremo entrare nel paradiso di Dio. Amen. Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Continueremo in queste riflessioni. Pace del Signore a tutti. Amen. Amen. Amen.